il prossimo esercizio sempre in otto battute ricalca in gran parte la struttura di un blues standard che si intitola nobody wants you when you're down and out registrato tra gli altri da clepton nel celebre album unplugged il primo accordo in questo giro è più un accordo maggiore che di settima una buona soluzione in questi casi consiste nell'utilizzo dell'accordo di sesta e attenzione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti